Dov'è di che c'è scritto? Novità! Sì, ciao, sono Nicola Guarino di laurearsilavorando.com e come hai visto scritto qui nella lavagna c'è una grande novità in arrivo. Se ci segui, se segui laurearsi lavorando, se segui il mondo della formazione per studenti universitari, sappi che sta arrivando un'opportunità unica, una novità dedicata agli studenti lavoratori italiani. Una cosa che non è mai, 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 mai successa nella storia, non è stato mai possibile una cosa del genere, sta per accadere e accadrà esattamente lunedì 5 ottobre. Continua a seguirci, continua a seguire appunto i nostri canali, il nostro canale YouTube, se leggi le nostre mail, se le ricevi fai molta attenzione perché lì sveleremo tutto. Sarà un'opportunità dedicata esclusivamente a tutti quegli studenti universitari, lavoratori che vogliono laurearsi velocemente con voti alti, anche se hanno poco tempo, anche se magari fanno un lavoro full time, anche se magari studiano ingegneria, medicina o facoltà appunto così difficili. Quindi sappi che sta arrivare anche per loro un'opportunità unica che gli permetterà immediatamente di accelerare il loro percorso universitario, di aumentare esponenzialmente la propria media e di aumentare il numero di esami per ogni singola sessione. Quindi mi raccomando stai connesso, non posso dirti nient'altro, sono veramente eccitato dalla novità, sono veramente euforico per quanto riguarda appunto questa novità che non è mai successa, è una decisione che abbiamo appena preso e che rivoluzionerà in meglio, cambierà in meglio la vita di tantissimi studenti universitari, lavoratori. Quindi fai molta attenzione, segui i nostri video, segui le nostre mail, continua a seguire, fai attenzione qui su YouTube, entra sul nostro canale ogni giorno perché caricheremo da qui e nei prossimi giorni dei nuovi video specifici in cui andiamo a parlare di questa opportunità unica. Attenzione però è una finestra a tempo limitato, cioè ci sarà una finestra di una settimana in cui devi veramente catapultarti per andarti a prendere questa opportunità. Se ti interessa davvero avere ancora più risultati, se ti interessa laurearti prima, uscirti il prima possibile all'università con il massimo dei voti, mi raccomando fai molta attenzione perché sta per arrivare qualcosa di unico. Non voglio dirti nient'altro, rimani connesso, metti un mi piace, commenta, magari se mi lasci un commento qui sotto, magari sveliamo qualcosa, magari ti rispondo e ti do qualche indizio, ti do qualche informazione in più. Lascia un commento, magari scrivi, sono curioso, voglio saperne di più, sono interessato e ti dico esattamente magari di cosa si tratta, insomma ti do una risposta. Metti un like e commenta. Ciao!